Ciao, bentornato e benvenuto sul Pensiero Non Lineare, sono la dottressa di Mario, psicologa clinica e sono obiettiva di essere anche oggi qui con te per continuare un po' insieme questo viaggio tra e intorno alle stanze della psicologia. Per prima cosa se vuoi ti invito ad indossare gli auricolari al fine di avere un'esperienza che sia più coinvolgente. Poi, come dico sempre, fa un bel respiro. Sciogli i muscoli del collo, delle spalle e della schiena. Trova una posizione che sia per te comoda, sediti oppo restenti, e se ti va, trai anche le scarpe che io le ho già tolte. Il viaggio di oggi sarà un viaggio che ci porterà tra le stanze dell'apprendimento. In realtà non sarà un viaggio, insomma, troppo lungo, è soltanto l'inizio di nuovi capitoli che andremo un po' a scoprire. Vorrei infatti presentarti un po', insomma, appunto, le teorie dell'apprendimento e vorrei sollevare e farti conoscere alcuni, insomma, quesiti o comunque punti interessanti della teoria stessa. Quindi che cos'è, in sostanza, l'apprendimento sociale. Conosceremo insieme il pensiero di alcuni teorici importanti e vedremo quanto può essere importante e come può essere importante l'influenza dei genitori. Però, aspetta, 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 facciamo una cosa. Non ti dirò molto altro adesso, perché se sei pronto, tre, due, uno, allaccia le cinture che si parte. Quindi, in sostanza, la teoria dell'apprendimento si sviluppa in America e nota anche come comportamentismo, ad esempio, oppure ci sono anche tutti gli studi magari di nomi come quello di Skinner, che sono, insomma, abbastanza conosciuti. Che cos'è, però più nello specifico, l'apprendimento sociale. Ebbe origine nel 1930 all'Università di Yale. I teorici dell'apprendimento presero una parte della teoria freudiana, ad esempio i concetti di aggressività, dipendenza e così via, ma cercarono la spiegazione del comportamento nei principi dell'apprendimento, intendendo con ciò lo stimolo e la risposta. Il principio guida era che la personalità viene appresa. I teorici dell'apprendimento sociale esplorarono quindi molti campi tra gli anni 40 e 50, la nevrosi, l'identificazione, ma uno dei punti fondamentali fu la socializzazione, cioè il processo per cui la società cerca di insegnare ai bambini a comportarsi come un adulto ideale che appartiene a quella società. Nelle ricerche si analizzavano quindi la correlazione tra le caratteristiche dei genitori e poi, insomma, i risvolti del bambino, quindi ad esempio alcuni studi erano in merito allo stile genitorale autoritario e la personalità futura del bambino. Miller e Dollard dimostrarono che una delle forze più potenti della socializzazione è l'imitazione, la quale viene appresa perché vengono rinforzati i vari comportamenti imitativi attraverso un processo di condizionamento operante. Due concetti di Freud vengono poi riletti. Innanzitutto l'identificazione con il genitore dello stesso sesso avviene perché? Perché praticamente c'è un apprendimento osservativo. Bandone e Walters sostenevano che comportamenti relativamente nuovi possono essere acquisiti semplicemente guardando nuovi modelli senza quindi che l'osservatore debba necessariamente essere rinforzato, come quando ad esempio un bambino vede lodare di frequente dall'insegnato un suo compagno di classe che si impegna nello studio e vuole quindi imparare quel comportamento. Si tratta quindi di un rinforzo vicareante. L'apprendimento avviene senza un comportamento esplicito oppure si ha un apprendimento senza tentativi. Negli ultimi anni poi la teoria di Bandura è stata diciamo diventata sempre più cognitiva e quindi arriva insomma a chiamare la sua teoria teoria social cognitiva e definisce l'apprendimento come l'acquisizione di conoscenza attraverso l'elaborazione cognitiva di informazione. Distinguiamo infatti una TAT, una teoria dell'apprendimento tradizionale e la TAS, una teoria dell'apprendimento sociale. Ma questo sarà argomento di un prossimo viaggio che faremo insieme mentre per oggi il nostro piccolo viaggio è giunto al termine. Spero comunque che sia stato di tuo gradimento se ci sono delle curiosità insomma o dei feedback vuoi interagire con me puoi lasciarmi tranquillamente un commento io sarò come ben sai molto lieta di risponderti e di interagire. Per il resto quindi ti lascio insomma col motto del nostro canale che finisce bene qui che comincia male. Ti ricordo che l'aero del pensiero non lineare non si ferma mai per cui se lo vorrai domani sarò sempre qui sempre rigorosamente senza scarpe pronta a partire per un nuovo viaggio insieme. Grazie per il tuo tempo allora mi raccomando non slacciare le cinture. Alla prossima ciao